Corsa al ribasso senza fine per i prezzi del petrolio, il Brent, il greggio di origine europea, è sceso a poco più di 82 dollari al barile, mentre quello americano è arrivato a scambiare sotto i 76 dollari. Pesano le mosse del maggiore esportatore del pianeta, l'Arabia Saudita, che ha abbassato i prezzi praticati agli Stati Uniti. C'è chi parla di una vera e propria guerra per le quote di mercato e persino dell'intenzione di schiacciare i produttori di petrolio di scisto. Per altri, però, tali interpretazioni sono esagerate. Una cosa è certa, finché i paesi OPEC si mostreranno divisi su un possibile taglio della produzione, i prezzi rimarranno bassi.